Il decreto sicurezza targato Maroni entrato in vigore sabato scorso consentirebbe tra l'altro ai sindaci di continuare la collaborazione con la protezione civile per pattugliare il territorio. Risorsa già messa in campo da molte amministrazioni leghiste di marca nonostante le numerose polemiche e che la scorsa settimana a un passo dal nuovo decreto sembrava non poter più essere utilizzata con grande rammarico del carroccio. Il ministro Maroni cambia idea all'ultimo e decide secondo il segretario della Lega Tony Darè di ripristinare il binomio ronde protezione civile. Ovviamente il fronte del no è compatto ed insorge appena avuta notizia. Il centro-sinistra si schiera contro l'utilizzo degli uomini di Bertolaso per pattugliare il territorio, sottolineando che i loro compiti sono ben altri. La bottaccina e il PD è in grado solo di fare polemica. Coglie queste occasioni per polemizzare. Invece bisogna fare, 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 rendere sicure le nostre città anche con l'aiuto della protezione civile. Qualsiasi volontario, chiunque abbia voglia di spendersi per le nostre città per rendere un po' più sicure è ben accetto. Deve essere anzi stimolato e reso protagonista. Favorevole le ronde. Guarda, una per famiglia, una per via. Favorevolissima. Favorevole. Logicamente regolamentate, a partiti, però sono favorevole. Penso sia un servizio che può aiutare i cittadini a vivere più tranquilli. La gente però chiede sicurezza a gran voce nella marca. A Mogliano Veneto, dopo l'ennesima rapina, questa volta ai danni della gioielleria di Augusto Bacchin, il neosindaco Giovanni Azzolini ha già promesso alla popolazione di intensificare il servizio di videosorveglianza e controlli sul territorio. Giovanni, parteciperai anche tu alle ronde? Il termine ronde sta avendo un po' la valenza un po' troppo violenta, diciamo così. Io credo che incentiveremo dei gruppi di osservatori volontari che aiuteranno i nostri carabinieri e anche il sindaco a rendere la città un po' più sicura. Ma parteciperai anche tu? Beh, sono sempre in giro, credo di essere già un primo promotore della sicurezza. Sono quotidianamente in città, di giorno, a volte anche la sera e cerco di farmi vedere sempre fra i cittadini per rendere un po' più la città sicura.